Ciao, sono Marco Rosati, vengo da Pisa, dal Cine Club Corte Tripoli Cinematografica. Sono qui all'Italia Film Fedic per presentare due film. Ne ho uno in vetrina, che si chiama In Memoria D, e uno in concorso, che si chiama Mon Amour. In Memoria D è la storia di un badante che lascia una persona che non dovrebbe essere lasciata sola, ed è una metafora dello stato politico che era il tempo in cui l'ho girato, in cui l'Italia era senza un governo, e quindi senza una supervisione. Mon Amour, invece, tratta una storia pulp di una ragazza che, sotto un forte stress, fa una decisione un po' critica e grottesca. Per il futuro spero di continuare e di fare soprattutto lungometraggi, perché qui ho trattato il corto, mentre il lungometraggio è un orizzonte che mi interessa molto. Ciao, saluto tutti gli amici di 16 corto.